Musica Io sono qui per seguirvi per tutta la durata del test dalla nostra base operativa Nike Industries Preparatevi a un'esperienza unica e come diceva sempre Nemo, mi raccomando fate attenzione, anche una corsa può fare la differenza Io sono la voce del Nike 2 Vita Kate per gli amici Benvenuti a porto, vi presento Jake Io fui un pilota per tutta la missione Kate, vi seguo sui monitor, tenetevi al piano Esattamente ciò che è interrompere Che è verso di voi su un elicottero, mettetevi in salvo Attivare modalità e-mail Grazie a tutti Kit, sei già entrato nella jet-housa Giovedo lì sì Dovreste essere al sicuro Grazie Kit Constituto La biglota per tutta della twentbe Spesso la riga, un'esperienza di portare Milano, dove iniziali Poggi un sistema Grazie a tutti. Siamo a casa, ho un urgente risolvio di una piccola sosta. Ben fatto, i nostri amici sono al sicuro. Temevole potessi farlo. Niente male Jake, per usare un termine umano mi sento euforico con i miei vecchi tempi. La Mighty Industries vi auguro un buon proseguimento di giornata.